Noi abbiamo bisogno nei prossimi mesi di fare un grande investimento economico sul servizio sanitario nazionale da una parte e dall'altra parte di immaginare una riforma del servizio sanitario nazionale. Le due cose devono camminare insieme, si completano, non basta una sola delle due. Alcune volte si sono annunciate riforme facendo tagli e quindi le riforme erano in qualche modo la scusa per riorganizzare perché andavi a sottrarre risorse al sistema. Però credo che non basti neanche semplicemente dire più soldi perché più soldi è indispensabile, dirò velocemente perché, ma questi soldi devono anche servirci per costruire un modello nuovo perché il tempo in cui viviamo è radicalmente diverso da quello degli anni passati. Le risorse sono un grande tema. Io penso che l'esperienza del Covid da questo punto di vista ci consegni una straordinaria e inedita opportunità perché c'è una consapevolezza che non c'è mai stata prima. Le persone dentro la crisi hanno capito fino in fondo quanto conti avere un servizio sanitario nazionale all'altezza, quanto conti avere personale sanitario nelle condizioni di potersi far carico del problema di ciascuno di noi. E allora questo è il momento di cambiare strada, di chiudere definitivamente la stagione dei tagli che ci ha attraversato per troppo tempo e di aprire una grande nuova stagione di investimenti. Oltre alle risorse servono le riforme, serve pensare un servizio sanitario diverso, nuovo. Ci sono cose che in questi anni oggettivamente non hanno funzionato e su cui dobbiamo cambiare radicalmente. E dentro questa partita è chiaro che devono essere protagoniste le donne e gli uomini che non finiremo mai di ringraziare per il lavoro straordinario fatto. A me non è mai piaciuto usare la parola eroe. Penso che la parola eroe dobbiamo considerarla, diciamo, come qualcosa da usare sempre con grande prudenza. La mia personale opinione è che l'Italia dovrebbe invece fare altro, non cercare eroi, ma coltivare virtù antieroiche. Virtù antieroiche io intendo donne e uomini che 24 ore al giorno fanno il proprio mestiere, fanno il bene della propria comunità.